nuovo ospedale scelta finale tra muraglia e case bruciate piazza redi sarà riqualificata ok dal consiglio comunale scuola la provincia punta a risistemare tutte le palestre roff 15k alla scoperta di 40 anni di scenografie del festival buona serata eccoci pronti con il consueto spazio dedicato alle notizie della provincia di pesaro urbino su rossini tv oggi è martedì 26 ottobre apriamo questa edizione occupandoci della realizzazione del nuovo ospedale di pesaro ieri infatti vi abbiamo dato notizia della revoca definitiva da parte della regione marche del project financing sull'ospedale unico ora vediamo quali sono gli scenari che si prospettano nelle prossime due settimane dopo infiniti tira e molla fatti di progetti prima bozzati e poi stracciati di project financing prima redatti e poi silurati il nuovo ospedale di pesaro individua in novembre il mese della resa dei conti 13 giorni per decidere dove sarà costruito una squadra tecnica e non politica deputata alle valutazioni finali l'annuncio è arrivato dalla giunta regionale con l'assessore alla sanità filippo salta martini a enfatizzare la rapidità della scelta sul nuovo ospedale e l'assessore alle infrastrutture baldelli a motivare l'ultima pietra tombale al project financing sull'ospedale unico una revoca accompagnata dal disappunto trasversale di tutto il mondo pd da matteo ricci al capogruppo in regione mangialardi alla parlamentare alessia morani la pandemia ha dimostrato qualora ve ne fosse ancora bisogno che il diritto alla salute ha necessità di essere erogato su più ospedali quindi abbandoniamo la logica degli dell'accentramento dei servizi sanitari ospedalieri in uniche strutture e cerchiamo di costruire una rete policentrica sul territorio questo però significa anche laddove necessario costruire nuove strutture ospedaliere e rafforzare quelle che già operano sul territorio riepilogando addio all'ospedale unico da 612 posti letto sì a un ospedale nuovo a pesaro da 400 posti letto sì al presumibile potenziamento dell'ospedale di fano con 250 posti letto matteo ricci digerito a fatica il no all'ospedale unico si è già detto pronto alle barricate su qualsiasi scelta diversa dalla costruzione di un nuovo ospedale sul terreno del già esistente nosocomio di muraglia unica variabile resta l'ipotesi case bruciate muraglia risponde alla filosofia del costruire sul costruito e a una variante urbanistica già approvata ma anche una viabilità complessa e costi stimati superiori circa 170 milioni di euro case bruciate al vantaggio di costi più contenuti circa 140 milioni di euro e una collocazione strategica in prossimità del casello autostradale ma a sua volta lo svantaggio di una variante urbanistica e alcuni espropri ancora da avviare per il via a un eventuale progetto piazza redi sarà riqualificata nella sua pavimentazione nelle panchine e anche nei porticati è stato questo uno dei temi centrali del consiglio comunale di pesaro di ieri che approfondiamo in questo prossimo servizio la riqualificazione di piazza redi questa volta incassa l'ok del consiglio comunale la mozione presentata dal consigliere della lega dario andreolli ha trovato lunedì sera il consenso di una approvazione all'unanimità dopo che lo scorso luglio la stessa tematica fu bocciata per 14 voti contrari della maggioranza questa volta la mozione ripresentata con alcuni accorgimenti è stata emendata assieme al capogruppo di forza pesaro un gran bel po luca pandolfi tutti d'accordo su un potenziamento degli interventi di manutenzione su una pavimentazione ammalorata a 20 anni dalla sua realizzazione e sulla riqualificazione dei porticati organizzando un tavolo di confronto con i condomini proprietari di un'area che è privata a differenza della piazza che è pubblica una riqualificazione in senso non solo estetico ma anche il senso funzionale fa incrementare anche tutti quelli che sono le altre problematiche connesse a quello la problematica legata al commercio la problematica legata alla sicurezza la problematica legata al decoro la problematica legata alla vitalità che ne può conseguire da un usufrutto maggiore da parte di tutta l'utenza voglio dire non si parla di una zona eh degradata e io non l'ho mai pensato non l'ho mai l'ho mai pensato perché voglio dire fondamentalmente il contesto urbano e il contesto sociale di tutto il quartiere di Monte Granaro si può dire tutto tranne che sia degradato ma è una zona che bisogna tenere monitorato e dove un'azione di qualità incide sicuramente in senso di socialità e di conseguenza di sicurezza e di controllo non solo piazzaredi un'altra mozione approvata all'unanimità è stata quella dei consiglieri del gruppo pd anna maria mattioli e nicolas blasi in merito al ripristino del museo diffuso a novilara sul sentiero di santa croce un percorso culturale naturalistico che unisce il sentiero all'acquedotto romano e alla necropoli di novilara che ha trovato la calorata approvazione anche degli assessori daniele vimini e aidi morotti che in tal senso hanno già presentato un progetto di valorizzazione che si inserisce nell'ambito dei finanziamenti europei pinqua sulla qualità dell'abitare sono 103 i nuovi casi di covi 19 registrati nella nostra regione marche per una percentuale di tamponi positivi del 6,5 per cento in linea all'andamento dell'ultima settimana stabili anche i ricoveri con 55 pazienti nelle marche di cui 14 in terapia intensiva due i decessi registrati oggi entrambi nella provincia di ancona si tratta di un uomo di 81 anni e di una donna di 93 anni il direttore del centro per l'impiego di pesaro claudio andreani ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri di montbaroccio dopo che domenica sera è stato sfiorato da un colpo di fucile mentre passeggiava coi suoi cani nelle campagne di monte gaudio andreani che è solito frequentare le zone in questione teme infatti che il pericolo scampato non sia frutto di un colpo accidentale il che sarebbe comunque grave ma di un atto volontario di indecifrabile motivazione per il quale ha voluto scrivere un post su facebook per avvisare la comunità del luogo lo scorso weekend vi abbiamo mostrato la riqualificazione della palestra all'istituto santa marta di pesaro un importante intervento di edilizia scolastica che potrete vedere ancor meglio domani sera in uno speciale televisivo alle 20 e 15 su rossini tv il santa marta è però solo la prima di tante altre strutture sportive scolastiche interessate da un piano di investimenti della provincia e allora vediamo quali sono questi prossimi interventi attraverso l'intervista di maurizio bartoli che è il responsabile provinciale per l'edilizia scolastica abbiamo quindi programmato una serie di interventi che ci permette di dire che nel prossimi due anni avremo tutte le scuole con o nuove palestre penso ad urbino e a pergola e la ristrutturazione di quelle esistenti in particolare visto che siamo a pesaro abbiamo inaugurato il santa marta e un'opera di oltre 120 mila euro quindi un rifacimento quasi totale dal dal telo che ora è più a performance maggiori per quanto riguarda il riscaldamento tutto il nuovo impianto di riscaldamento e il fondo quindi di fatto una nuova palestra la stessa operazione la stiamo facendo al cecchi che termineremo fra una ventina di giorni e quindi è identica nel nel concetto quindi una tensostruttura rifatta completamente anzi quella del cecchi abbiamo fatto anche tutto il sottofondo nuovo e la sistemazione della parte esterna al liceo scientifico il campo di palacanestro con tribune che è duplicato al campus anche al mamiani e quello delle rossini l'abbiamo terminato l'anno scorso nel liceo scientifico e quello di del mamiani lo termineremo a breve anche al mengaroni lo spazio interno al mengaroni e anzi al perticari nell'edificio c'era quelle corte l'abbiamo con delle migliorie in un appalto per lavori di adeguamento sismico e di adeguamento degli spazi realizzeremo lì un piccolo campo da pallavolo quindi anche i ragazzi del 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 perticari al mengaroni potranno avere questo spazio attrezzato per fare attività esterna e il morselli nell'ambito della ristrutturazione che ricordo il morselli diventerà la prima scuola enzeb della provincia di edifici esistenti quindi contiamo che entro il prossimo anno venga consegnata la scuola e quindi questo perigrinare questo difficoltà che ha il perché ha tantissimi studenti con la messa in campo di questo nuovo edificio avremo un'ottima soluzione abbiamo trovato delle risorse 330 mila euro da aggiungere a quella dell'edificio principale per sistemare la palestra del morselli questa è una palestra importantissima per la sua collocazione nel centro storico quindi avere una palestra adeguata sismicamente completamente nuova della la copertura dell'impianti del sottofondo voi capite che è un'ottima lungimiranza e offerta che la provincia poi dopo aver risolto i problemi della scuola la lascia aperta alla collettività oltre alla provincia anche il comune di pesaro è impegnato sul fronte delle palestre scolastiche di sua competenza la riunione di giunta di oggi ha infatti approvato la realizzazione della palestra a servizio del campo scolastico di via la marmora tramite gli espropri delle aree a ridosso della nuova scuola brancati il via i lavori è previsto per la prossima primavera saranno 1400 metri quadrati per una struttura da 200 posti a sedere omologata dal coni per competizioni agonistiche e completate da un'area di sosta il costo dell'intervento è 3,2 milioni finanziati da fondi ministeriali e da un mutuo del credito sportivo la giunta comunale ha approvato oggi anche la realizzazione del cosiddetto trail park di muraglia dopo la pista di via dell'acquedotto dedicata al pump track delle biciclette ecco dunque una struttura per le mountain bike che sorgerà fra via petrarca via riosto e piazza salfieri l'impianto sarà al 100 per cento green costerà 50 mila euro e verranno realizzate 200 metri di pista in terra battuta e riqualificata la già esistente pista da skateboard la foto inviata ci da un nostro telespettatore che vi mostriamo ora si riferisce a un incendio di un cassonetto vicino alla scuola pirandello che ha chiamato in causa i vigili del fuoco nella serata di ieri l'episodio è significativo perché lo stesso cassonetto era stato dato alle fiamme appena una settimana prima continuiamo con le nostre segnalazioni ma di tutt'altro genere ci arriva da giorgia una ragazza di gallo di petriano che in questa intervista ci spiega le tante difficoltà per chi è portatore di disabilità nell'acquistare adeguati biglietti ai luoghi della cultura come ad esempio teatri e cinema ascoltiamola sono giorgia ho 23 anni e sono una studentessa di scienze motorie lo sport è la mia passione infatti sono un'istruttrice di nuoto un giudice di gara di nuoto e sincronizzato ho tantissimi hobby come la scrittura la musica il cinema a 9 anni mi è stata diagnosticata la dossier di Friedrich una patologia neurodegenerativa da quando agli adulti ci sono in carrozzina io come tantissime altre persone nella mia condizione voglio partecipare attivamente alla vita sociale andare a dementi incontri concerti di vario tipo ma trovare i biglietti per una persona con disabilità è sempre un'impresa non è mai indicato un contatto diretto a cui rivolgersi a volte se ne occupa l'organizzatore principale piuttosto che terzi i teatri o i diretti palazzetti si perdono mesi per cercare di trovare la persona che se ne occupa e poi magari i biglietti sono terminati la mia proposta è quella che le agenzie di vendita inseriscono nel loro sito una sezione dedicata ai disabili dove inserire i propri dati scenografici da legare il certificato di malinità e così verrà inviata una richiesta diretta agli organizzatori che poi si occuperanno di tutto il resto e adesso uno spazio dedicato alle mostre le mostre che vi consigliamo sempre di andare a visitare le mostre bellissime che trovate nella città di pesaro in questo caso al museo nazionale rossini ha inaugurato lo scorso 29 settembre in occasione dei primi 15 mila giorni di vita del rossini opera festival un mese dopo la mostra roff 15k allestita al museo nazionale rossini sta riscuotendo interesse e apprezzamento anche per la singolarità delle opere in esposizione i laboratori del roff hanno portato al restauro 24 modellini di scena di alcune delle principali opere allestite in 42 anni di festival dal barbiere di siviglia alla gazza ladra da gugliel motel al signor bruschino un lungo viaggio nell'immaginario visivo rossiniano in cui unire la musica del festival alla teatralità scenica dei suoi allestimenti soddisfatto cristian della chiara curatore di una mostra visitabile fino al 28 febbraio devo dire che i riscontri sono molto positivi ci ha fatto molto piacere vedere le persone hanno hanno apprezzato diciamo la nostra idea di presentare il festival da questo punto di vista particolare è una mostra che è in grado di interessare un pubblico molto eterogeneo sia gli appassionati che sono tutti del festival che trovano conferme delle loro passioni competenti in questa mostra si chi anche chi vive il mondo della lirica da un po più lontano ma che trova attraverso l'indagine e dei modellini un punto d'accesso facilitato per esplorare questo mondo veramente magico quindi diciamo che le prime i primi riscontri sono perfettamente in linea con quello che pensavamo che ci auguravamo fosse la risposta del pubblico quindi eh tanta tanta soddisfazione e siamo certi che eh questo contenuto non possa che eh eh incontrare ancora il favore del pubblico in un in un periodo che diciamo è più favorevole per la visita ai musei quello che stiamo imparando anche quando ci saranno magari eh le le vacanze natalizie quindi è un'occasione in più per visitare la nostra città spazio dedicato ai libri fra le tante sfaccettature di questo settecentesimo anniversario dantesco c'è anche quello dell'aspetto culinario e denogastronomico Nicoletta Tagliabracci ci porta quindi alla scoperta di alimentazione e ricette al tempo e nei luoghi del sumo poeta diciamo che questo è un po' un libro figlio del lockdown quindi di quest'inverno bizzarro che comunque ha coinciso anche con le celebrazioni eh del settecentesimo anniversario dalla morte di Dante e unisce anche la mia passione per il medioevo e per il cibo in generale di cui mi occupo comunque da tanti anni eh attraverso la promozione di prodotti enogastronomici marchigiani eh il libro ha riservato diverse sorprese perché soprattutto eh ha voluto mh cercare di capire quale fosse il cibo al tempo di Dante quindi eh che cosa si mangiava nel medioevo e soprattutto come quindi nel libro verranno trattati è vero i cibi che c'erano all'epoca ma soprattutto le tradizioni conviviali quindi seguendo le tracce di Dante una volta che lui ha lasciato la sua amata toscana ed è andato in giro per l'Italia mi sono chiesta che cosa avesse potuto trovare nelle corti che l'hanno ospitato o nei monasteri o nelle taverne quindi analizzare un po' il cibo nelle varie sfaccettature ma soprattutto a livello locale quindi non mi sono spinta oltre il centro Italia e oltre il 300 quindi né troppo avanti né troppo indietro nel medioevo che ricordiamo dura comunque mille anni e l'Europa l'ho concentrata in realtà nella zona del centro Italia spingendomi al massimo fino a Venezia dove lui aveva avuto la sua una delle sue ultime ambasciate prima di ritornare a Ravenna dove purtroppo poi morì quindi diciamo che questo è un viaggio attraverso un cibo nostrano locale soprattutto sorprendente perché mi sono chiesta che cosa lui avesse potuto provare a Venezia davanti a un piatto di saor che sicuramente non lo conosceva quindi è stato sorprendente sapere quanto era variegato anche all'epoca il cibo Dante non era un uomo molto goloso o perlomeno forse lo sarebbe anche stato ma aveva molta paura della chiesa e aveva molta paura dei precetti che rendevano l'uomo medievale pericolosamente goloso quindi lui era un uomo molto morigerato era un uomo che mangiava poco non beveva vino stava molto attento magari la ricerca storica ha portato anche alla scoperta di ricette del tempo sì ne ho trovato qualcuno molto interessante riproponibile anche al giorno d'oggi ho voluto inserirle nel libro quindi tutto sommato scopriamo che non abbiamo inventato niente se non i prodotti che naturalmente sono stati importati dall'America quindi il menù medievale era naturalmente senza pomodoro senza patate senza cacao senza caffè però è altrettanto gustoso e dato che stiamo andando anche in questo periodo verso un regime alimentare abbastanza vegetariano ho ritrovato tante ricette di zuppe e di piatti con le verdure che ho voluto proporre anche proprio qui nel libro e Nicoletta Tagliabracci la vedrete prossimamente su Rossini TV alla conduzione di un programma televisivo che verrà realizzato appunto dal nostro staff si chiama Green Tour e sarà un racconto un documentario dedicato al nostro bellissimo Entroterra e adesso concludiamo con lo sport infatti vigilia europea per l'Ital Service che domani debuterà nel main round di Champions League da lei stessa organizzata all'RDS Stadium di Rimini domani alle 20.30 la prima sfida sarà con i russi del Kumen e verrà trasmessa questa stessa partita anche su Rossini TV giovedì alla stessa ora seconda partita con la squadra cieca di Polzen ultimo match sabato alle ore 18 con gli avversari kazaki del Kairat Almaty e allora tanti in bocca al lupo all'Ital Service adesso andiamo a vedere la programmazione di questa sera su Rossini TV partiamo alle 21.20 con la presentazione del nuovo anno accademico dell'Università di Urbino e a seguire alle 21.40 trasmetteremo la partita del Pesaro Rugby contro la Romagna RFC l'intera partita quindi non perdetevela questa seconda giornata dell'andata grazie per averci seguito adesso vi lascio in compagnia del meteo per i prossimi giorni ci vediamo domani mattina alle 7.20 in diretta su Rossini TV con la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito